weyla eccoci qua con il nostro video sul nostro amato bitcoin l'euforia sembra assolutamente risorbita tutta una fake news tutta una manipolazione adesso si sono sono long ma non è un long per il to the moon l'ho segnalata anche nel telegram un longhetto perché adesso stiamo andando per qui ad esempio eravamo a metà giornaliero adesso in teoria dobbiamo andare a chiudere l'inverso giornaliero inverso in questo top qua ovviamente sembra molto probabile che non andiamo a fare un nuovo top quindi staremo giù sostanzialmente staremo giù adesso vediamo un attimo la price action qui probabilmente potrebbe fare un altro ciclettino a tre ore no qui e da qui forse è partito vediamo vedi qui ha fatto il top di un ciclo a tre ore adesso ha vincolato a rialzo questo ciclo a tre ore dovrebbe spingere un po a rialzo in realtà ero entrato in questa zona qui però comunque qui non dovrebbe essersi ancora chiuso il giornaliero adesso farà il top e poi chiuderà il giornaliero che giornaliero si è chiuso dopo anche no quindi sostanzialmente cosa dovrebbe fare adesso teoricamente il prezzo partiamo il suo giro da dall'analisi più breve dovrebbe da qui essere partito un giornaliero qui quando era mezzo un mezzo giornaliero sono entrato long ma era un long di copertura adesso vediamo sono entrato qui long perché comunque non aveva rotto il minimo doveva fare la seconda parte soprattutto va andare a chiudere questo giornaliero inverso no magari togliamo tutti questi alert e sennò facciamo la sagra qua stop all via tanto quello che devo vedere l'ho già visto per ora adesso noi dovremo andare a chiudere questo top di giornaliero inverso e cioè o fa un altro pump così perché qualcun altro grida al lupo al lupo con qualche etf approvato ah no scusate no oppure rimaniamo sotto se rimaniamo sotto molto probabilmente confermiamo questo come top di trimestrale inverso top manipolato di trimestrale inverso infatti comunque qui in questa zona qui al massimo magari andrà a ricoprire un po' di inefficienza magari sul 29 2 29 4 poi chiuderò magari potrei lasciare una posizioncina col classico stop a zero ma perché perché comunque io ho il mostro di di short da queste parti se questo è un partimento una sorta di long copertura perché qui c'erano i mostri qui realtà in reale anche ovviamente come l'ho detto su telegram come magari l'ho detto anche ieri qui c'erano i massimi volumi e qui si è short per la vita praticamente perché cioè se adesso non siamo andati a fare un top di trimestrale inverso che è più basso di questo trimestrale qua quindi questo è un top importante probabilmente sarebbe come i tempi un po' un po' fuori dall'ordinario diciamo vabbè top di biennale inverso però comunque non mi convince dopo vedremo comunque resta il fatto che è un top di trimestrale verso più basso cioè dà già indice che qualcosa di grave sta accadendo quindi io avevo il primo short così questo l'ho già incassato perché comunque avevo tutti i short più grossi qua praticamente messi così con il top con lo stop sopra il massimo però adesso hanno lo stop a zero chiaramente e quindi questi qui che non ho incassato e che se che magari li potrei tenere anche per mesi se il prezzo inizia a invertire magari hanno bisogno di un lunghetto anche di copertura qua e comunque anche sto lunghetto qui sì cioè tecnicamente ti fa un lunghettino in tra dei ma io non ho grandi bellità cioè nel senso questa price action infatti è piatta cioè anzi è già un miracolo che sia piatta probabilmente adesso andiamo a fare il nostro toppettino così andiamo a ritestare questi livelli che ci hanno scatafasciato giù e uno di questi due livelli qua ci butta giù direttamente ed è finita poi vediamo vediamo cioè perché poi qui siamo all'ordine del giorno come manipolazioni andiamo a vedere bene meglio la ciclica sul CMI ormai ho capito che non si può fare a meno di guardare il CMI quando non ho guardato il CMI mi sono praticamente mi sono fatto manipolare da solo questo comunque perché poi andrebbe in azzurro è la trend della ripartenza di questo settimanale anzi vabbè vediamo meglio la situazione più dall'alto rifacciamo facciamo un ripasso magari senza milioni di scarabocchietti ea scarabocchi su quello che dovrebbe fare questo è disegnato da una vita fa rimbalzo e poi va giù da una vita che ha disegnato sta roba allora vediamo anche magari vari scenari perché bisogna vedere vari scenari qui è dove dovrebbe chiudere il trimestrale allora vado a vedere un attimo la situazione del trimestrale inverso perché comunque qui c'è il top mettiamolo ok qui c'è il nostro mega top del 2021 è un po' sfasato con quella pre-section che abbiamo avuto dopo però diciamo facciamo circa un conteggio abbiamo circa qui ce ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ci siamo fermati a 7 questo è quello che comunque ancora mi dà qualcosa che è strano è troppo presto il settimo chiudere il settimo vedete anche qui come è successo con questi settimanali poi vi faccio vedere qui cosa è successo con questi settimanali che noi dovevamo andare a chiudere il trimestrale inverso no? il top del trimestrale inverso e qui c'è stata tutta questa pre-section fake che ci ha fatto pensare che avesse chiuso con questo top e guardate com'è andata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poi qui ci ha fatto pensare che andasse tutto in malora ma lui ha voluto fare il top giusto con i tempi giusti circa all'ottavo settimanale e quindi questo trasposto praticamente su time frame più ampio mi lascia ancora un po' perplesso ecco mettiamola così perché se deve fare il top del biennale qui la situazione è un po' strana mettiamola così strana no? perché qui era troppo presto qui siamo al settimo questo è l'ottavo sì, in teoria guarda, togliamo il grafico a linee no? in teoria eh no, è troppo basso cioè dovrebbe fare almeno un altro triplo top quindi qui la situazione è un po' cioè sotto questo punto di vista lascia un po' perplessi mettiamola così diciamo un'altra cosa che in lato indice più che stare facendo sul macro anche il mercato normale più che fare cicli da quattro trimestrali li sta facendo tutti da cinque dal crollo covid quindi potrebbe fare cinque più cinque però andiamo a vedere dov'è il cinque intermezzo allora scusa facciamo finta circa per vedere dov'è facciamo qui c'è il primo secondo terzo quattro cinque quinto e il quinto è da queste parti cioè proprio quando eravamo nel botto sì vabbè circa mettiamolo bene solo un secondo dopo faccio indietro se no lo devo rimettere a posto quindi abbiamo due tre quattro cinque la fine del cinque è qui sì vabbè sì 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 può essere tranquillamente può essere tranquillamente rivolgo ricontrolliamo uno due tre quattro cinque cinque qui e il cinque tra l'altro è stato veramente potente perché vedete ha fatto il movimento tipo da top di annuale inverso diciamo e ha fatto un bel crescione e ha rotto quello che era supposto essere il minimo di un trimestrale sì sì effettivamente la view ci sta quindi comunque adesso la situazione rimane lo stesso relativamente bullish però ci sta che ora andiamo in correzione e allora a questo punto io credo che il biennale inverso lo andiamo a fare con la sequenza cinque più cinque non quattro più quattro vediamo sei qui parte qui parte sei sette otto nove dieci qui dove ho già messo questo affare azzurro in effetti pensando alla sequenza cinque più cinque mettiamo in giorni no se così fosse con sequenza cinque più cinque andiamo a maggio 2024 a fare il biennale inverso questa non è una sentenza ovviamente quindi se noi andiamo a unire i puntini proviamo a unire i puntini e vedere una sequenza possibile di cinque più cinque a questo punto visto che con quella quattro più quattro non sta non sta non sta non sta workando bene mettiamola in questi termini inglesizzati allora se fa la sequenza cinque più cinque perché anche indice sembra proprio puntare a fare questo perché adesso qui da qui è partito il nostro circa quadrinale anche poniamo si fa la sequenza cinque più cinque noi andiamo a fare uno due tre quattro abbiamo la chiusura dicembre ma facciamo un altro scarico a ribasso no come ho disegnato qui disegniamolo meglio togliamo questa roba facciamo tipo un'analisi di lunghetto no se la view è giusta e noi abbiamo noi facciamo queste view per avere una sorta di mappa no poi è chiaro che i prezzi comandano e si guarda anche l'analisi tecniche e volumetric però se fa le sequenze da cinque più cinque come ha iniziato a farle dal crollo covid come spesso i mercati anche in passato hanno fatto anche negli anni settanta ottanta anche 90 c'erano delle sequenze cinque più cinque invece che quattro più quattro come termestrale ma adesso cosa facciamo andiamo a fare un bruttino magari dicembre così chiudiamo andiamo giù poi andiamo a fare un rimbalzo pseudo rimbalzo rally di natale magari andiamo tipo a fare solo un retest al basso una roba del genere classico retest al basso no e poi abbiamo lo scarico finale cattivissimo no bam una roba del genere un fresh crescione quelli fatti con i fiocchi no magari può anche fermarsi sui 20k cioè non è detto che debba andare minimi cioè facciamo una cosa moderata poi vedremo andiamo giù quindi qui sostanzialmente mettiamolo in viola qui abbiamo il nostro chiusura di questo diciamo annuale 5 più 5 che fitta anche a questo punto con l'inverso 5 più 5 fitta con tutti i cicli precedenti che sono stati 5 più 5 perché andiamo a vederne uno vedete qui c'è il crollo covid e va il crollo covid crollo covid è un po' spostato diciamo 1 2 3 4 5 5 siccome è spostato spostiamo un attimino è il bear market estivo del 2021 più 5 vedete no poi anche qui che è spostato partiamo da qui 1 2 3 4 5 vedete chiusura sto facendo i 5 più 5 non i 4 più 4 quindi anche qui 1 2 3 4 quindi 5 5 magari il prezzo ti arriva qui e poi abbiamo detto che abbiamo il top del biennale inverso quindi ti fa questo 5 e poi ti parte a razzo praticamente da qui parte un missile terra aria e ti va a fare il top del biennale inverso che non è una sentenza semplicemente ti fa il top del biennale inverso ma che fa parte un missile capito dopo magari starà un po' giù ovviamente e poi insomma il 2024 si vedrà vai fa un bel ritracciamento sta giù 1 2 trimestrali e poi e poi riparte il boom market ecco diciamo questa questa secondo me a questo punto è la view molto più probabile no questa secondo me è la view molto più probabile a questo punto sì e quindi il nostro top di biennale inverso qui non c'entra niente perché siamo praticamente su questi questa roba qui sono soltanto dei top diciamo che è un top semestrale mettiamolo così questo è solo un top semestrale metà corsa di questa seconda nuova fase ecco e e poi adesso vediamo sul brevissimo quindi cosa ci sta cadendo visto che siamo anche in corso in questo logo e non vorrei un attimino distrarmi sta andando come deve andare mettiamo un attimo qua quindi adesso sta salendo infatti è vincolato a rialzo quest'ultimo ciclettino marcia 3 ore se vogliamo controllarli adesso questo ciclettino 3 ore qui che dovrebbe essere partito da questo 28,5 circa e si è chiuso con questo rimbalzo sui 28,3,80 vedete 3 ore secche proprio come si può dire proprio fate con lo scalpellino cioè proprio col pennellino ecco adesso qui siamo solo un'ora e mezza potrebbe essere tranquillamente questo l'ultimo ciclo 3 ore che chiude quindi noi avremo sostanzialmente probabilmente soltanto un'ora un'ora e mezza di salita un'ora un'ora e mezza di salita circa mettiamo un'ora anzi siccome siamo qui guardate cosa faccio io di solito siccome so che abbiamo circa un'ora di salita io mi metto un timer così quant'è che allora vediamo un attimo da qui siamo a due ore e mezza esatto metto un bel timer qua con un bel alert perché quando si arriva oltre che lato prezzi lato tempo quando arrivo in questa zona qui mi avverte di stare all'occhio perché adesso comunque qua sul brevissimo e dopo chiudo perché intanto abbiamo visto anche di lungo cosa potrebbe fare dopo chiudo praticamente siamo già come tempi a un giorno e un'ora qui vedete come l'avevo disegnato sopra può fare anche un altro un altro ciclo 3 ore in più il senso può farne due può anche arrivare a un giorno e 6 ore non è che deve fare proprio un giorno o un giorno o un'ora no adesso fa sicuramente così sicuramente sicuramente non esiste niente di sicuro però insomma probabilmente ecco dopo magari sembra che faccia l'oracolo probabilmente ti fa questa roba qua si controlla si controlla poi probabilmente magari prendo già dei profitti soprattutto se è arrivato in questa zona qui poi potrebbe comunque fare anche un altro ciclo a 3 ore tranquillamente però questo lo si controlla no già se mi fa un bel un bel pump qua io penso che scaricherò sicuramente il ciclo da facendo perché comunque da quando sono entrato qua cioè l'obiettivo è che arrivasse qua su però vedete fa fatica sta facendo gran fatica poi se mi arriva in queste zone qui anche se ho già troppo basso aspetto un ciclo a 3 ore se mi scende pazienza tanto c'ho il short sopra ma se mi fa un altro ciclo a 3 ore rialzo dopo e sono quasi sicuro che ormai è finito il giornaliero inverso ah io un altro short me lo sparo volentieri faccio uno stop per reverse e anche questi come target to the hell perché comunque se adesso è fatto è stato settato questo trimestrale inverso si scende si scende in maniera brutale perché poi comunque adesso fra un po' guardando meglio sul semi comunque andiamo anche a chiusura del cioè andiamo a chiudere scendiamo anche per il mezzo trimestrale indice no come tempi quanto siamo 40 giorni 45 qua 45 giorni qui c'è la metà trimestrale mezzo trimestrale diciamo no quindi fa il mezzo trimestrale e quindi deve chiudere il mezzo trimestrale qui c'è già fatto questo top scatafascio questa è la sostanza va bene dai per questo video è tutto ci sentiamo alla prossima ciao ciao